Prevenzione e benessere Prevenzione e benessere si è parlato di malattie muscoloscheletriche, malattie oculari e diabete questa mattina a Carbonia durante il convegno organizzato da FAND e ANMIL Ressalta l'incidenza del diabete nel nostro territorio, la Sardegna prima in Europa Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la fabbrica del cinema di Carbonia presenta il progetto del lenzuolo sospeso, un filo rosso per non dimenticare dell'artista Silvia Capiluppi Lunedì 25 novembre tutti i presenti saranno chiamati a partecipare ricamando con un filo rosso il nome di una donna scomparsa per femminicidio Affari di condominio, novità per quelli più vecchi Sono in arrivo i contributi stanziati per il rifacimento delle colonne elettriche dei condomini costruiti prima del 1985 Nel Tg i dettagli forniti dall'Adi Consum Il mercato del lavoro in Sardegna si svolgerà lunedì 25 novembre alle 10 presso la sala Alcoa di via Enrico Fermi a Portuscuso l'incontro territoriale sul tema del lavoro a cura dell'osservatorio del mercato del lavoro dell'ASPAL Ben ritrovati su Canale 40 per questa nuova edizione del nostro telegiornale Si è tenuto questa mattina Carboni a un importante incontro sui temi della prevenzione delle malattie e del benessere delle persone L'evento moderato dal giornalista Manolo Muredu è stato organizzato dalla Fund Sardegna e dall'Anmil nella sala riunioni del circolo Eural Coop in piazza Marmilla e ha visto la partecipazione di diversi medici intervenuti su tematiche quali le patologie muscoloscheletriche quelle oculari e in generale quelle connesse al diabete e ad uno stile di vita non equilibrato Abbiamo seguito l'evento e vediamo dunque insieme le interviste realizzate con il presidente del Fund Giampiero Gioi, dottor Guaita, primario di diabetologia del distretto sanitario di Carboni e di Iglesias e Antonio Piredda, responsabile dell'Anmil territoriale Vediamo insieme Giampiero Gioi, presidente del Fund Oggi una giornata molto importante Partiamo però da che cos'è il Fund? Il Fund è la federazione delle associazioni nazionali dei disabili che rappresenta le cinque maggiori associazioni dei disabili L'AMMIC, l'AMMIL, l'ENSE, l'Unione Italiana Cecchia e l'UMSU Allora rappresentiamo circa 2 milioni e 600 persone in tutta Italia quindi siamo un esercito di persone disabili che come oggi si spostano nei vari posti per spiegare cosa vuol dire la disabilità e coinvolgere come aveva fatto oggi le scuole quindi i ragazzi che consideriamo il terreno fertile dove impiantare quel selme della cultura della prevenzione che abbiamo tanto bisogno nel prossimo futuro Bisognerebbe organizzarne di più giornate come questa forse per sensibilizzare proprio come diceva lei soprattutto le giovani generazioni a temi così importanti Allora, sono previste 13 giornate quindi sono 3 per ogni provincia di competenza abbiamo iniziato con Carbonium abbiamo ancora a disposizione altre 12 giornate dove coinvolgere i ragazzi e non solo i ragazzi ma tutta la cittadinanza oggi facciamo anche un po' di prevenzione facciamo la prova del diabete quindi la classica misurazione del tasso glicemico facciamo la misurazione del bulbo oculare e poi facciamo molto importante la manovra di disostruzione in caso di soffocamento, di ingerimento delle vie aeree di sostanze estranee Dottor Guaita, parliamo di diabete facciamo anche una distinzione tra il diabete di tipo 1 e di tipo 2 volevo chiederle se abbiamo dei numeri a disposizione per sapere un po' qual è la mappa del diabete nel nostro territorio Sì, abbiamo a disposizione dei numeri e sappiamo oramai già da diverso tempo che la prevalenza di diabete nella nostra zona è molto elevata per fare un distinguo tra il diabete di tipo 1 e il diabete di tipo 2 dobbiamo dire che il diabete di tipo 1 che è una malattia autoimmune ha una incidenza in Sardegna in Sardegna in totto che è la più elevata addirittura che in tutta Europa quindi abbiamo questo triste primatto anche come possiamo dire a livello mondiale mentre il diabete di tipo 2 che è una forma di diabete che è maggiormente correlata a fattori quali l'invecchiamento della popolazione gli stili di vita incongrui sia in termini di alimentazione non corretta che di scarsa attività fisica e per quanto riguarda il diabete di tipo 2 invece addirittura in seno al nostro territorio regionale la prevalenza più alta è proprio quella del nostro territorio dei nostri distretti di Carbonia e di Iglesias verosimilmente correlato a questi fattori che dicevamo prima e proprio in relazione al diabete di tipo 2 è fondamentale un'azione di prevenzione di prevenzione veicolando messaggi importanti per quanto riguarda lo stile di vita l'alimentazione l'attività fisica e ci stiamo adoperando sia come ATS come azienda sanitaria sia anche a livello regionale per promuovere anche tutte quelle iniziative proprio atte a modificare questi fattori di rischio ad esempio partirà tra poco proprio un progetto regionale sull'esercizio fisico come prescrizione medica proprio per la prevenzione di patologie quali il diabete di tipo 2 abbiamo voluto questa giornata proprio qui a Carbonia dove noi abbiamo anche la nostra sede perché? perché questa malattia professionale che diciamola che è un po' nuova provenzia che lì ancora non la sa diciamo interpretare bene perché? perché è nuova e il sulcisi poi è la provincia italiana dove c'è maggiormente presente questo tipo di malattia è una malattia che ancora si sta studiando perché ancora non si conosce perfettamente quali sono le cause e qual è la ragione che le persone vengono colpite con questa malattia così come non sono ancora diciamo molto precise e valide le cure che vengono effettuate su questa malattia provenzia che lì ne le tratta come malattia professionale semplice ma così non è che sintomi presenta? presenta un inchilosamento di tutti i muscoli e quindi automaticamente la mancanza di movimento il CAE porta con il blocco dei muscoli poi ad avere altri problemi tipo digestivi, motori eccetera quindi è una malattia invalidante e restiamo su questo argomento perché stamane in occasione del convegno organizzato da FAND e ANMIL abbiamo intervistato anche la sindaca di Carbonia Paola Massida e l'assessore regionale Fabio Usai vediamo dunque l'intervista di Francesca Rius sì, questo è un incontro con la FAND è una federazione che raggruppa cinque associazioni per l'invalidità per la disabilità importanti a livello nazionale e quindi questo incontro particolarmente importante nel nostro territorio che soffre da un punto di vista sanitario un'attenzione già ai normodotati e quindi verso le persone con disabilità invalidità è particolarmente acuta l'assenza della sanità ed è per questo che questo incontro di oggi mi fa particolarmente piacere perché è vicino all'inaugurazione di un importante centro domotico che si muove appunto nell'intento di facilitare l'azione il benessere delle persone con gravi disabilità e con disabilità minori che inaugureremo il 28 di questo mese alle 4 in via costituente ed è un incontro importantissimo tra l'attenzione alla disabilità e la forza che ci viene da un'associazione di volontariato che già nel nostro territorio ha dato prova di essere particolarmente capace ad affrontare problemi così gravi e che mi piace anche faccia a rete con il territorio perché nasce a Sant'Antioco e prosegue qua a Carbonia Onorevole Usai oggi è un'importante giornata si parla di varie tematiche tutte correlate alla sanità a che livello è oggi la sanità nel nostro territorio? In consiglio regionale noi stiamo cercando di riportare la sanità ai territori vogliamo avvicinare l'ASL lo vogliamo fare quanto prima vogliamo porre fine a questo scempio purtroppo che è stato creato nei 5 anni precedenti l'ASL l'unica ha prodotto gli effetti che vediamo ogni giorno spetta a noi oggi rimbocarci le maniche e andare contro tendenza e cercare di fare quello che non è stato fatto sino ad oggi mi riferisco a cosa? Potenziare il CUP potenziare reparti salvavita quali quello di emodinamica cardiologia c'è tanto bisogno di potenziare anche il reparto dialisi insomma c'è una situazione che va affrontata e va affrontata in maniera seria e nel più breve tempo possibile Cambiamo adesso decisamente argomento in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne lunedì 25 novembre il CSC Carbonia della società umanitaria propone un ricco programma di iniziative alle 20 presso la fabbrica del cinema di Carbonia verrà proposto il progetto del lenzuolo sospeso un filo rosso per non dimenticare dell'artista Silvia Capiluppi che si concretizzerà come performance collettiva a cui saranno chiamati a partecipare tutti coloro che saranno presenti alla serata il programma prevede anche la proiezione del film e la scomparsa di mia madre di Beniamino Barrese ne abbiamo parlato con Andrea Contu della società umanitaria sentiamo tutti i dettagli Andrea lunedì 25 novembre si celebra la giornata internazionale contro la violenza sulle donne l'umanitaria ovviamente è presente in prima linea anche quest'anno con una nuova iniziativa ci sarà presso la fabbrica del cinema la proiezione di un film molto importante ma prima di questo un altro progetto che vede protagonista un lenzuolo e un filo rosso si come dicevi Francesca il lunedì 25 la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne è stata istituita dai Nazioni Unite nel 1999 la società umanitaria a livello nazionale propone un progetto che è quello del lenzuolo sospeso in Sardegna verrà ospitato all'interno dei 300 di Alghero Cagliere Carbonia lunedì 25 alle ore 20 la fabbrica del cinema che si trova all'ingresso della grande miniera di Serbariu prima della proiezione del film La scomparsa di mia madre verrà esposto questo lenzuolo e chiederemo alle persone che verranno di ricamare con un filo rosso il nome di una donna vittima di femminicidio che intendono ricordare un'iniziativa chiaramente simbolica ma crediamo che oggi più che mai anche gesti simbolici siano importantissimi alle 21 invece ci sarà il quarto e ultimo appuntamento della rassegna autunno in sala ed è anche l'anteprima di un'altra rassegna che si chiama l'Italia che non si vede che circuiterà lo prossimo anno nel nostro territorio attraverso i circoli arci di Carbonia San Nativo con Iglesias il film è la scomparsa di mia madre Beniamino Barrese è stato presentato al Sundance recentemente settimana scorsa è stato candidato tra i cinque film candidato come miglior documentario europeo ha vinto 40 premi feste in tutto il mondo saranno protagonisti il regista Beniamino Barrese e la protagonista nonché madre di Beniamino Benedetta Barzini Benedetta Barzini forse le persone un po' più grandi d'età se la ricorderanno è stata la prima top model italiana negli anni 60 ha lavorato a New York con Andy Warhol con i più grandi quindi in realtà da diversi anni abbandonato il mondo della moda ha condotto poi una non dico una revisione ma un approfondimento del ruolo dell'immagine sulla donna e oggi è questo il suo lavoro e il film è incentrato sulla volontà di Benedetta di far scomparire la propria immagine il rapporto con il figlio Beniamino Barrese saranno nostri ospiti l'ingresso è libero gratuito per cui vi aspettiamo per un appuntamento di eccezione ben tornati in studio al via ad Iglesias nel centro culturale la decima edizione del cinema del Mediterraneo la rassegna cinematografica diretta dal regista Enrico Pau è organizzata dall'Arcis Iglesias in collaborazione con la società umanitaria sentiamo Carlo Martinilli ritorna nel suo ventennale la decima rassegna del cinema del Mediterraneo in programma Iglesias da questa sera presso il centro culturale Casa del Cinema la programmazione andrà avanti fino al 30 di novembre e sarà scandita da proiezioni di film cortometraggi ma anche da mostre presentazioni di libri e gli immancabili incontri con artisti e autori per Enrico Pau il cinema e il lavoro dei registi più coraggiosi sembra essere in questo momento storico una sorta di trincea un luogo di lotta uno spazio di libertà siamo alla decima edizione ormai abbiamo dedicato questa rassegna ad alcuni argomenti che ci sembrano particolarmente importanti interessanti e approfonditi dal cinema italiano e dal cinema mediterraneo esattamente quattro temi abbiamo inucleato la identità personale il lavoro che purtroppo è una delle cose che mancano il problema della nostra sardità della Sardegna e infine quali questi grandi movimenti di migranti quali trasformazioni stanno apportando alla nostra società per Enrico Pau curatore e direttore artistico della rassegna il cinema e il lavoro dei registi più coraggiosi sembra essere in questo momento storico una sorta di trincea un luogo di lotta uno spazio di libertà sì lui è il nostro il nostro direttore artistico la selezione dei film è avvenuta con la sua consulenza la sua indicazione inizieremo con un film Fiore gemello che un po' riassume una parte almeno dei temi che dicevo prima la sua ambientazione in Sardegna non è casuale ma direi una parte portante di tutto il film e poi grande spazio ai giovani registi e artisti emergenti noi abbiamo curiamo molto il fatto che i giovani di Iglesias ma in genere della Sardegna che si affacciano al mondo della produzione audiovisiva del cinema abbiano una platea a un incontro col pubblico piazie alla Cinete Cassar la società umanitaria che sono grandi nostri sostenitori c'è in Sardegna non una scuola di cinema ma c'è anche c'è sicuramente un numero di registi un numero di produzioni audiovisive di alto livello che è dovuta al loro lavoro e che ci sembra giusto anche esaltare sono in arrivo contributi stanziati per il rifacimento delle colonne elettriche e dei condomini costruiti prima del 1985 scopriamo maggiori dettagli nell'intervista che abbiamo realizzato con il presidente territoriale della Di Consumo Giancarlo Canceda diamo una notizia che può essere interessante ai condomini la RERA che è l'autorità di Stato che regola le agenzie e compagnie venditrici di energia sia elettrica gas o acqua eccetera ha predisposto dei congrui rimborsi o partecipazione alle spese per il rifacimento delle colonne elettriche degli appartamenti dei locali dei condomini tutti i condomini che rifanno l'impianto elettrico che interessa tutti gli appartamenti quindi le colonne che portano tutti i cavi elettrici nei vari condomini possono fare richiesta di contributo alla RERA che rimborsa sino a un massimo di 1200 euro appartamento e 900 euro a piano appunto per il rifacimento di questi impianti i rimborsi sono dedicati o mirati specialmente agli impianti fatti negli appartamenti prima del 1970 per gli appartamenti e per gli condomini dopo il 70 fino all'85 il rimborso sarà ridotto questo serve proprio per dar possibilità a tutti gli inquilini con il rifacimento appunto degli impianti elettrici della colonna portante degli impianti elettrici non degli impianti delle abitazioni di poter anche potenziare avere una potenza superiore di erogazione di energia nei propri appartamenti in modo da installare pompe di calore o quant'altro insomma strumenti e macchinari che assorbano corrente questo vale per i condomini e le richieste per questi lavori di rifacimento delle colonne portanti dove sono inseriti tutti i cavi elettrici la richiesta va fatta dagli amministratori condominali e per il condominio e questo parte da gennaio 2020 va ricordato che nel caso ci sia anche da rifare la conduttura che dal condominio va sino alla cabina elettrica di erogazione appunto dell'energia anche in quel caso ci sarà un contributo di 100 euro a metro quadro pertanto tutti gli amministratori che ritengono necessario urgente sia per la sicurezza sia per l'amodernamento sia per dare possibilità di maggior potenza agli inquilini da gennaio possono farne richiesta bisogna collegarsi al sito della Rera vedere appunto il sito dedicato a questo problemino a questa opportunità inserirsi compilare i documenti necessari fare i progetti necessari e quindi richiedere i rimborsi che ripeto saranno fino a 1200 euro ad appartamento sino a 900 euro a piano e nel caso c'è da fare anche il collegamento sino al punto fornitore di corrente alle cabine elettriche anche 100 euro a metro a metro lineare quindi chi ne ha necessità è una buona opportunità bisogna approfittarla e adesso cambiamo argomento e parliamo di sport questa mattina abbiamo incontrato il campione mondiale di bodybuilding in carica Pierpaolo Melis di Porto Scuso è rientrato vincitore qualche giorno fa dalla gara di Mister Universo Amatori per la categoria over 60 disputata in provincia di Taranto vediamo insieme Pierpaolo Melis dopo tante vittorie e tante soddisfazioni ne è arrivata ancora una fresca fresca proprio recentemente un'altra gara extra mondiale questa volta in provincia di Taranto dove si è arrivato ancora una volta primo sì finalmente dopo tanti sacrifici ce l'ho fatta ad arrivare prima al Ministro Olimpio Amatori che da tanto che volevo partecipare sono riuscito ad arrivare primo nel livello 60 e secondo nella categoria altezza a peso che sono dai 20 ai 35 anni c'è un buon risultato per i sacrifici che ho fatto certo che gli altri atleti dai 20 ai 35 anni che si sono visti quasi portare via il trono da un ragazzo di 60 non saranno stati molto felici sicuramente erano tanto felici però ho ricevuto da loro tanti complimenti per la mia età e per il mio fisico abbastanza simmetrico è molto definito è stata una gara molto bella poi è un piacere partecipare con loro perché sono dei bravissimi atleti anche se c'è qualche principiante e qualche avanzato però è un piacere gareggiare con loro e complimenti soprattutto per la costanza per la grande forza di volontà che ci vuole perché sappiamo che fare bodybuilding a questi riveli significa anche fare tanti sacrifici sì tanti sacrifici sia sull'allenamento sul riposo ma soprattutto sul mangiare sul mangiare tanti sacrifici perché il mangiare il 70% dei risultati che si devono ottenere nel bodybuilding purtroppo diciamo purtroppo per chi non riesce per me è molto facile perché ho la volontà di seguire una buona alimentazione e quindi mi dà tantissimi risultati e tante soddisfazioni ecco qualche segreto per esempio sull'alimentazione ce lo puoi svelare tanti anni comunque a dieta rigorosa sì ci sono anche capita anche periodi di sgarri quando sono lontano dalle gare però vicino alle gare la dieta è rigorosissima non devo fare nessuno sgarro sia sul riposo che sull'alimentazione un piccolo sgarro potrebbe danneggiare la mia gara quindi meno sgarri faccio meglio è però qualche consiglio che posso dare agli atleti che gareggiano soprattutto essere molto fiscali sul peso dell'alimentazione e su quello che mangiano molto importante molto quindi fare incetta di proteine magari limitare carboidrati e grassi sì diciamo che ci vogliono tante proteine e tanti carboidrati per aumentare di volume poi naturalmente in preparazione di gara bisogna abbassare tantissimo i carboidrati che ti permettono di asciugare molto il fisico tantissimo apriamo la terza parte del nostro telegiornale parlando degli eventi si intitola lasciateci giocare il convegno sull'educazione da zero a sei anni su diritti e opportunità in programma sabato 30 novembre all'asilo nido comunale di carbonia i colori dell'arcobaleno sito in via manzoni dalle 9.30 alle 13.30 il convegno vedrà l'intervento tra gli altri anche del garante per l'infanzia e l'adolescenza della regione sardegna l'avvocato grazie a maria de matteis tra i numerosi temi che saranno trattati si parlerà anche di educazione alimentare con la presentazione dei risultati del progetto genitori in prima linea contro il sovrappeso e l'obesità a cura del nido e del sian della asl di carbonia con le testimonianze delle mamme andiamo avanti si svolgerà lunedì 25 novembre alle ore 10 presso la sala alcoa di via Enrico Fermi a Portoscuso presso la biblioteca comunale l'incontro territoriale sul tema il mercato del lavoro in Sardegna il programma del convegno prevede un focus sul territorio di competenza del centro per l'impiego di carbonia a cura dell'osservatorio del mercato del lavoro dell'ASPAL e gli interventi del sindaco di Portoscuso Giorgio Alimonda del direttore generale dell'ASPAL Massimo Temussi e dell'assessore regionale del lavoro Alessandra Zedda seguirà un dibattito con amministratori locali operatori del mondo del lavoro e della formazione e imprese il prossimo lunedì 25 novembre Sant'Antioco ospiterà un importante convegno dal nome bonifiche pianificare e progettare per il riutilizzo del territorio il caso Seamag Sant'Antioco l'evento organizzato dalla Filchtem CGL della Sardegna sud-occidentale vedrà la partecipazione dei segretari sindacali territoriali e regionali Emanuele Madeidu Michele Carrus Antonello Congiu e Francesco Garau del sindaco Ignazio Locci dell'amministratore dell'IGEA Michele Caria e degli assessori regionali ai lavori pubblici all'industria e all'ambiente Roberto Frongio Anita Pili e Gianni Lampis I lavori prenderanno il via alle ore 16.30 nell'aula consigliare sita nella piazzetta Italo Diana Con questa notizia è tutto il nostro telegiornale si chiude qui vi lascio con le previsioni del tempo per la giornata di domani di domenica e a Noa in corso il nostro telegiornale in lingua sarda nel ringraziarvi per essere stati con noi e per l'attenzione vi do appuntamento alle prossime edizioni del nostro telegiornale e vi auguro un buon fine settimana arrivederci a a a a a a a Grazie per la visione!